no ragazzi c'è questi cani che ho conosciuto 5 10 minuti fa praticamente mi hanno seguito sono di qualcuno che abita qua vicino non sono randaggio assolutamente perché sono belli in carne sono anche puliti e adesso però c'è un piccolo problema perché si sono simpatici si guardate che bellino questo sì sì è solo che io adesso devo andare dove c'ho la macchina praticamente sulla strada asfaltata e loro mi stanno seguendo e io non so cosa fare adesso vediamo se mi abbandonano vediamo se mi abbandonano faccio finta di niente pensate che mi stiano abbandonando vediamo cosa c'è qua ce n'è già uno attenzione ecco che arrivano gli altri tre si figurati se mi abbandonano questi non è possibile proseguiamo vediamo vediamo un po questi sono i cani più felici che ci possono essere sulla faccia della terra perché sono liberi possono andare dove vogliono e tutto campagna come potete vedere siamo vicino alle montagne e loro sono veramente felici a parte del fatto che sono anche socievoli sono stati molto tranquilli nei miei confronti